il tuo codice genetico prevarrà su ogni aspetto terreno di marica moretto 25 luglio 2023 se sei uno starseed allora sei qui per portare un codice genetico nuovo ecco perché hai scelto di riprogrammare questa realtà terrena e per farlo hai scelto di guarire l'intero albero genealogico di comprendere il karma familiare e di fartene carico per trasformarlo è ovvio che non puoi seguire le regole dettate da questa società non le segui nella sfera personale nelle relazioni nella famiglia e non le segui nel collettivo sei qui per creare regole nuove ecco perché metti in discussione le egregore e le rifiuti rompi schemi comportamentali tossici distruggi dinamiche legate al dolore annulli la sottomissione difendi l'amore per te stesso e l'amore per la verità che va di pari passo non sono tollerabili le ingiustizie in qualsiasi contesto ecco agisci per portare equilibrio oppure rimani fermo immobile come una montagna irremovibile nella tua verità e giustizia ecco guarisci eoni di manipolazione ti allontani dai familiari dai partner dai figli dai genitori dalle amicizie dai colleghi che rappresentano la vecchia 3d ovvero la prigione karmica per non darle ulteriore energia ecco prendi posizione nel cuore nel tuo cuore preferisci la solitudine alla finta compagnia questa è la tua libertà ti ritroverai a collaborare con anime affini le vere famiglie sei qui per portare il caos e con esso una rinascita sopporti dolore emotivo più di ogni altro essere umano e sopporti dolore fisico oltre i limiti umani il tuo corpo assorbe e trasforma spontaneamente energia dolore 3d sai guardare il dolore negli occhi e riconoscendolo come tuo alleato evolutivo gli sorridi sei forte e determinato perché sei connesso con il tuo piano animico sempre sei guidato supportato e monitorato continuamente dalle alte sfere sei spinto continuamente a vedere i tuoi limiti umani e a superarli per comprendere sempre più in profondità che non possono fermarti perché quei limiti non ti appartengono quei limiti non sono te semmai possono aiutarti nella destrutturazione di ogni aspetto della tua personalità che deve scomparire tutti i programmi oscuri devono essere disinstallati attraverso te per tornare all'origine della tua energia la tua vera frequenza vibrazionale si svela quindi l'essenza e il palesarsi della tua missione in modo sempre più chiaro ed inequivocabile sei qui per fare ciò che hai scelto di fare forse non lo ricordi ma sarai spronato a farlo non ci sono errori abbi fiducia in tutto ciò che ti accade perché è ciò che ti serve saprai come agire e come non agire saprai essere ciò che porti il tuo codice genetico è progettato per il risveglio e dal momento dell'attivazione non può essere più riaddormentato il tuo dna ha la capacità di liberarsi e di liberarti dai programmi 3d sappi che il tuo codice genetico prevarrà su ogni aspetto terreno sempre questo è stato deciso così è marica moretto voce marina